Il sottoclou di questo pomeriggio Miglio per buoni quattro anni ha chiuso da favorita Italia 1 2.25 la sua quota, mezzo meccanico in movimento. Dal centro Isildur si stacca al comando nei confronti di Iacone e di dentro Aesdete e allargo Imeros Sec. Poi Yabin, lancio in tredici e mezzo, punta in avanti Iacone e Luis, ma Isildur corre al comando. Alla lì ha il completamento della prima curva, i 400 iniziali da parte di Isildur in 28.9 e Iacone sempre all'esterno del leader, poi Aesdete, Imeros Sec, Yabin, Idrio, poi Yanez. 600, se ne vanno in 43.3, 15.2 di frazioni e cavalli che affrontano la piegata, avuto problemi idrio e così impiegata sempre alle prese I2. Il mezzo miglio iniziale se ne va nell'ordine del 59.1 e Isildur può respirare leggermente, intanto muove anche Italia 1 dalla coda e cerca la risalita. Si va alla chiusura del chilometro, allunga ancora bene Isildur, 14.4 il chilometro, 15 di frazione, 500 alla meta. Viene via bene Yanez, cerca l'aggancio, muove anche Italia 1, curva finale, frazione in 14.3, 1, 28.7, 3 quarti di miglio, Isildur in vantaggio. Poi Yanez, allargo Italia 1, avalia completamente la curva finale, retta d'arrivo con Italia 1 che va sui primi, Isildur al comando, ma Italia 1 ci prova, ci prova e ci crede, ci crede e ci prova, no problem, Italia 1 da grande e da signora, mentre per il secondo Yanez appariglia il numero 4, Isildur. Bella vittoria di Italia 1, 1, 58 e 8, che passa come vuole, saluta la comitiva e va a chiudere a redini basse. Per il secondo il numero 9.